Domani pubblicheremo due avvisi per il reclutamento del personale sanitario che dovrà aiutarci nella somministrazione dei vaccini. Faremo una call aperta, chiederemo a chi vorrà parteciparvi di darci una mano, ci aspettiamo al picco della campagna di poter utilizzare fino a 3.000 medici e fino a 12.000 infermieri. In Italia ci sono circa 10.000 neolaureati in medicina ogni anno, che sono non tutti riusciti ad avviare la loro attività di specializzazione, ci sono gli specializzandi e ci sono dei medici in pensione ancora nelle piene capacità di esercitare il loro lavoro. Faccio un appello a queste categorie, dateci una mano, servirà davvero al vostro Paese e servirà anche a non far affogare ancora i medici e gli infermieri già operativi da nove mesi con dedizione, sacrificio e responsabilità. Dobbiamo dargli tutti una mano, fatelo per aiutare a innalzare l'efficienza e l'efficacia di questa campagna.